ciao registro questa restituzione a seguito della one long session con elisa che ho effettuato qualche giorno fa io l'ho richiesta dopo averci pensato tanto tanto tempo perché sentivo e vedevo che avevo tutti i pezzi quindi a livello di strategia c'ero percorso ok contenuti ok li scrivevo eccetera però era come se si fosse inceppato il meccanismo non riuscivo a capire quale parte o quali parti fossero inceppate e vi dico io di percorsi ne ho fatti tanti ditemene uno io l'avrò fatto quindi ero molto in dubbio se chiedere in questa one long session perché è venuto il grandissimo timore che fosse la mia tentata soluzione cioè non mi sento sicura quindi faccio dei percorsi così risolvo e ho detto ma non è che proprio questo meccanismo quindi proprio il fatto di chiedere aiuto che mi sta impedendo di sviluppare quella sicurezza cioè il fatto di chiedere conferme all'esterno anziché attivarle in me e quindi era un pensiero che avevo questa della one long session ho detto beh un giorno la farò poi per una serie di motivi ho detto vabbè magari però è diverso perché è un momento puntuale non è un percorso e già questa era una modalità che io non avevo mai sperimentato e ho detto forse non lo so forse proprio la cosa che mi serve ed era davvero la mia ultima spiaggia ho detto io gli ero ripromessa di non investire più in supporto al business perché davvero negli ultimi anni ho investito tantissimo e ho detto questa è l'ultima volta e questo è quindi poi ho fatto questa one long session con elisa ed è stata una cosa potentissima potentissima perché immergermi mi ha permesso di di stare nel flusso ed è stato un po come paradossale cioè immergermi per vedere le cose dall'alto e ho capito che era questo quello che mi mancava quindi quello che mi son portata a casa dopo tutto il tempo passato con elisa parte è una grande stanchezza nel senso che non è una chiacchierata è uno scavare ma non per fare archeologia dell'anima ma per andare a individuare quel pezzo quei pezzi inceppati e capire insieme a lei come cosa fare in alternativa quindi quello che mi son portata a casa appunto è questa visione di insieme non è che ho cambiato nicchia non è che ho stravolto non è che prima mi occupavo di lavoro e poi ho capito che devo occuparmi di relazioni no in realtà è sempre quello l'ambito paradossalmente anziché restringere quindi essere più focalizzata ho allargato ma allargato il messaggio l'angolatura non la nicchia non è che adesso prendo più persone è semplicemente non tanto semplicemente l'angolatura da cui parlo da cui vedo quella parte di mondo e su cui mi sento nel mio questa per me è la sensazione più bella perché ogni volta mi sentivo sempre un po sì ok però non è non è tutto il mio non è manca qualcosa dopo la relazioni con elisa e soprattutto dopo le riflessioni che ne sono scaturite è come se finalmente avessi trovato un po quel pezzo di puzzle sapete quello che unisce due pezzettoni grandi per cui per cui tu hai lavorato su un pezzettone su un'area del puzzle su un'altra e ti manca la connessione tra i due e piano piano trovi i pezzi per me è stato questo e quindi di aspettative sì ne avevo nel senso che comunque da come ne parlava lisa da come ne parlavano altri insomma sembrava davvero la svolta io sono sempre un po titubante su questi termini e su questa visione quindi ho detto vabbè vediamo un po se davvero così quindi sono arrivata carica come una molla ti l'ho detto elisa di armarsi di santa pazienza e la svolta è in corso cioè non è che la one non session che ti dà la svolta e le riflessioni che fa insieme lisa più le tue ciò che ti si attiva che ti porta piano piano di fatto a mettere in campo questa svolta ad oggi io sto vedendo già dei risultati diversi ma ripeto non è che all'esterno sembra che non abbia cambiato granché però sto notando che come attirare entrare in comunicazione miglio con persone che finora erano state un po silenti con persone più vicine a quello di cui mi occupo io e non colleghi quindi questi segnali mi fanno dire che sto andando nella giusta direzione io ancora tante cose da implementare appunto che sono uscite dalla dalla sessione con elisa e sono fiduciosa che tutto questo poi mi porterà dove voglio andare perché adesso è molto 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 più chiaro quindi diciamo che la one non session con elisa io la consiglio a chi sa di avere tutti i pezzi quindi ha la strategia sa quello che dovrebbe fare ma o per qualche motivo non la fa o c'è qualcosa che non è totalmente non è stata totalmente capita quindi il principio cioè lo fai ma non sai perché lo fai e se senti che si è inceppato un po meccanismo secondo me in questi casi questa tipologia di intervento è molto molto efficace in più aggiungo che ve ne accorgerete se proverete questo approccio elisa non si risparmia nel senso che poi appunto lo vedrete quello che ho apprezzato davvero tanto è stato il fatto che lisa si sia un po come affiancata a me cioè come se fossimo state in presenza e lei si è messa di fianco a me e ho detto ok vediamo anche con calcolatrice alla mano quindi molto molto terra terra pratico concreto non è solo a ok magari potresti fare così potresti fare cosa no vediamo e poi anche sentire e vedere ricevere il supporto anche il termine della della chiamata quindi con qualche messaggio quindi veramente un approccio molto generoso e ad oggi sono contenta di aver fatto questo questo passo di essermi ascoltata nonostante le mie decisioni della serie adesso basta e mi si è aperto un mondo perché ho capito che ci sono tanti modi di procedere io finora ero un po fissata sul percorso ok mi manca un pezzo faccio un percorso così lo ottengo che è vero però a volte il percorso proprio per la lunghezza rischia di portarti fuori strada perché allunga molto i tempi quando invece magari tu hai bisogno solo di un intervento molto focalizzato verticale profondo quindi ecco questo è stato per me il grande valore ripeto adesso osserverò mi osserverò e agirò in base a quello che che è emerso e sono proprio curiosa di vedere cosa cambierà e chiudo con questo se prima io avevo quasi il timore di procedere nella mia professione adesso ho tantissima voglia di fare cioè anche tanta paradossalmente sono passata quasi da 0 a 100 quindi devo un po gestire questa rinnovata motivazione rinnovata curiosità di vedere cosa succederà e anche di di assistere ai cambiamenti dei miei clienti è come se io avessi spostato finalmente il focus da me agli altri sembra un paradosso ricollavorato su di me ma era esattamente quello di cui avevo bisogno quindi grazie mille lisa e grazie mille a tutti voi